Ennegan è un importante reseller di elettricità, gas e connettività internet. È stata pioniera dell'energia verde perché è stata la prima a porsi con piccoli zero emissioni di CO2 per i suoi clienti. Da sempre, attento agli aspetti di sicurezza, il cliente stava preparando una roadmap per rilassare la propria postura e il proprio livello di sicurezza e stava valutando sul mercato varie possibilità tecnologiche e vari brand. Abbiamo scelto innanzitutto Umbrella. Umbrella è uno strumento che è capace di filtrare tutte quelle che sono le minacce esterne, garantisce la sicurezza dei DNS. Oggi con Umbrella riusciamo tranquillamente a fare assessment sui log, riusciamo tranquillamente anche a capire quelle che sono le minacce che possono venire proprio dall'esterno e bloccarle. Inoltre abbiamo anche adottato Cisco Secure Access di Duo. È un sistema di multifactor authentication. Questo ha davvero sbaragliato tutta la concorrenza. Noi abbiamo messo in smart working 250 persone alla fine in una settimana e questo è stato permesso anche grazie a questa tecnologia. Il multifactor authentication ci permette di avere la certezza di chi si collega alla nostra rete interna. Il terzo strumento che abbiamo implementato è Secure Endpoint, il vecchio AMP, che non è altro uno strumento in grado di intercettare le minacce dei device degli utenti. Questo insieme ad Umbrella ci permette di governare in agilità tutte quelle minacce che vengono dall'esterno e ci consente di capire cosa e come intervenire. Cisco ha degli strumenti tecnologicamente avanzati ed in grado di garantirti come in questo caso la sicurezza aziendale. Sono strumenti compatibili tra di loro, sono strumenti che dialogano in maniera nativa tra di loro e quindi da questo punto di vista chi li deve amministrare è avvantaggiato. Ergon lavora con noi da anni e in Ergon io ho un partner veramente molto affidabile, capace di consigliarci quella che è la strada corretta da seguire e capace soprattutto di avere un approccio proattivo a tutte quelle che sono le nostre necessità. L'intenzione di Enica è senza dubbio quella di continuare a migliorare la propria postura di sicurezza. Al momento stanno studiando di introdurre Cisco Secure Access di Duo a livello applicativo e noi come System Integrator e come partner Cisco continueremo a guidarli in questo percorso.